benvenuti sul mio canale lasciami un like se ti vai attiva la campanellina per non perderti nessun video ultima ora che riguarda la piccola cata ci sarebbe una svolta nelle indagini per la bambina scomparsa il 10 giugno dall'hotel Astor di Firenze dove viveva insieme alla sua famiglia oggi è stato arrestato lo zio della piccola inoltre anche i suoi genitori sono stati perquisiti l'indagine in cui sono coinvolti riguarda il presunto racket degli affitti nello stabile occupato da immigrati non è escluso infatti che la sparazione la sparizione di cata sia legata proprio a faide interne oggi è stato arrestato lo zio abel alvarez vasquez in carcere sono finiti insieme a lui altri tre uomini accusati proprio di essere tre responsabili del raid punitivo contro due persone che si sarebbero rifiutate di pagare le stanze dell'ex hotel Astor contemporaneamente come vi dicevo sono stati perquisiti anche i familiari della bambina e ora tuttora sono indagati la procura per i quattro arrestati ipotizza i reati di tentato omicidio lesioni tentata estorsione ed estorsione chissà se lo zio finalmente parla e dirà dove si trova oggi la piccola cata